Musica Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video Ci troviamo qua in presenza di davvero qualcosa di molto molto speciale nell'ambito di Minecraft Infatti con questa nuova snapshot la 13v16a sono stati implementati dei nuovi animali Diciamo senzienti quindi comunque non negativi almeno per il momento ma è tutto da vedere E che ci aiuteranno molto nel nostro gameplay Si tratta proprio dei cari cavalli Il cavallo su Minecraft è forse uno dei soggetti che più aspettavo dall'inizio del mio gioco Perché sono sicuro e lo sono tuttora che questo cambiamento porterà delle modifiche nel gameplay Soprattutto nell'ambito PvP a cui mi interesso molto davvero straordinarie Il primo di questi cambiamenti è sicuramente la possibilità di poter attaccare persino sul cavallo E quindi secondo me è un'idea bellissima appunto di poter persino tirare frecce o tirare pozioni a cavallo E quindi ha enormi velocità molto diverse a quelle a piedi Molto bene sono qui in mezzo a una specie di cenciosamento di cavalli E allora la prima cosa da fare appunto per addestrare un cavallo è cercare di saltarci sopra Ecco io sono sopra di lui ma cosa succede spesso? I cavalli selvaggi come questi che state per vedere Diciamo non apprezzano molto che io salti sopra di loro E quindi molto probabilmente mi disarcioneranno nel giro di due secondi Ecco ad esempio qui questo qua mi ha nuovamente disarcionato E comunque sia anche se non mi disarciona immediatamente O lo fa dopo o comunque non segue i miei comandi Quindi la prima cosa è addestrare il cavallo Per addestrare il cavallo avremo necessità al momento di utilizzare del grano o dello zucchero O delle mele persino ma naturalmente questi ingredienti potrebbero cambiare Una volta uscita la nuova e vera e propria diciamo snapshot concreta e aggiornamento Quindi iniziamo subito a sfamare il nostro cavallo che dico e dico è molto molto affamato solitamente Come vedete tutta la notte che sfamo questo cavallo bianco perché credo sia uno dei più belli E diciamo che è davvero bello ghiotto Insomma voi dateli circa una mazzetta e ecco che se riuscissi a capire dovrebbe essere questo Si mi fa stare sopra di lui Il prossimo passo è quindi passare a mettergli una sella in modo da addestrarlo completamente al lavoro Una volta create le selle non dovrete fare altro che addestrare il vostro cavallo tramite il cibo E poi cercare di mettergli la sella sopra Se appunto si ribella come sta facendo con me in questo momento Vuol dire che ancora è molto affamato e ha bisogno di altro cibo per essere sicuro che voi siate i suoi nuovi padroni Diciamo che come dice la storia è il cavallo che sceglie il cavalchino che il cavalchino sceglie il cavallo Quindi trovate il vostro cavallo, addestratelo e vedrete che vi dovrà iniziare a rispettare Una volta addestrato il cavallo potrete o passare con una sella molto semplice come questa qua O una sella corazzata che è questa in diamante o questa in oro Naturalmente queste selle sono utili per il pvp Ovvero potenziano la possibilità di difesa del cavallo che quindi morirà molto molto con più difficoltà Andiamo quindi a vedere com'è la vera e propria cavalcatura cavallo Ecco qua che è calata la notte e sono in cello al mio bellissimo cavallo Qua sta sostenendo un po' il macello perché è pieno di mostri Come vedete però quando i mostri attaccheranno me io non perderò vita Ma perderà vita la mia cavalcatura ovvero il mio cavallo Questo perché? Perché sarà il cavallo quello più soggetto al danno O questi due scuole ci stanno fecchiando e poi successivamente quando il cavallo sarà morto io Naturalmente la guida diciamo e il pvp sul cavallo è abbastanza complessa Quindi sarà necessario appunto un certo allenamento per poter comprendere al meglio le regole del pvp a cavallo Però credo che appunto sia una buonissima iniziativa quella della Mojang di promuovere questo nuovo mostro Che sono sicuro ci porterà grossissimi vantaggi nel mondo di me Ah stavo per chiudere ho appena notato un bug che il cavallo va prima a fondo Poi si vede che tenta forse di risalire non lo so Comunque ragazzi per questo video da scaccomattore a tutto Spero vi sia piaciuto e con il mio cavallino insomma diritti di tutte e frecci ovunque Ciao a tutti